Un derby, è sempre un derby, arrivava in un momento particolare perché non vincevate da un po', con questo pubblico, con questo applauso, non era una crisi quella della Dacia Cerignola, però adesso qualunque pensiero è negativa alle spalle. Ma per quanto mi riguarda non era una crisi di gioco, ma era sicuramente magari una piccola crisi di risultati dovuto al fatto che comunque abbiamo sicuramente lasciato qualche punto per strada perché il campionato sappiamo quanto sia difficile. Non mi sono messo formato su questo, io sono sempre stato convinto che questi ragazzi hanno le possibilità di fare molto bene, nonostante questo periodo un pochettino di piccola crisi come di cui tanti hanno parlato. Io credo che sotto l'aspetto dell'impegno e della terminazione hanno dimostrato anche oggi di essere un gruppo unito, solido, che ha voglia comunque di tornare a far divertire questa gente. Poi sappiamo benissimo, la gente deve capire che il campionato è difficile, che le partite vanno affrontate e poi è chiaro che quando c'è da prendersi le colpe per qualcosa che non va bene, è giusto che le diano al mister perché è il primo responsabile di questi ragazzi, però quando le cose vanno bene è giusto che loro si prendano gli applausi perché oggi hanno meritato di vincere un derby a cui tutti tenevano.